Seconda parte della nostra rassegna dedicata allo sport, sempre in maniera alquanto ampia, come ogni lunedì, partiamo dal calcio, dalla Serie B, il grifo perfetto, così si può sognare, come vedete, questa doppia pagina del Corriere dell'Umbria sulla vittoria del Perugia 3-1 sulla Salernitana. A mezz'ora da urlo con le reti di Verre e Sadik, poi a Corcia a Casasola, ma nella ripresa il Perugia, nonostante l'inferiorità numerica, è stato espulso proprio Sadik, Caleltris con Ann, gran partita dei Biancorossi che spezzano il tabù Curi dopo tre sconfitte consecutive, il successo fu la Salernitana, li proietta al settimo posto con il punto di Luca Mercadini, Falzerane Carraro, i fiori di marzo nel giardino di Nesta e poi le pagelle con Giomber, davvero un leone in difesa, Falzerane Carraro, dettano legge in mediana, che bravo anche Mazzocchi, da terzino sinistro, quindi le parole di Nesta nel post-gara, bravi anche con l'uomo in meno, abbiamo acceso il Curi, missione compiuta, questo per quanto riguarda dunque il Perugia, ma parlando sempre di Perugia, però in ambito pallavolistico, Sir implacabile, travolta anche Ravenna, la CONSAR ci prova ma nulla può, e cede nei momenti chiavi del match. Fan club personale per Ricci, giunto dalla vicina Cotignola, Lanza festeggia i suoi 28 anni, alto 3-0 di Perugia che fa fuori anche il Romagnolo a domicilio, Leon MVP con 20 punti, prestazione e mostre della squadra, in battuta si legge. E dunque il punto, lo slogan di Raffaelli e i califfi di Recine, 14 successi di fila, preparano il gran finale di Regular Season Perugia, che dunque conferma la vetta, più tre da Trentino. Le parole nel post-gara, Bernardi l'insaziabile, tutto bene ma possiamo fare ancora meglio, dichiare poi Atanasievic. Ora non siamo più nervosi quando l'avversario difende, dichiara anche l'opposto serbo. Torniamo invece ora a parlare di calcio, Serie C, buonanotte Fere, il Monza passa con un filo di gas, ha liberato e arriva nell'ennesima sconfitta per i Rossoverdi, Gallo sbotta. Chi regge la pressione con noi? Gli altri, no, dichiari il tecnico della Ternana. Ai preanzoli, basta una rete del difensore negro per vincere, contestazione dei tifosi a fine gara, andate a lavorare. Il tecnico non si dà pace, loro nessun tiro in porta, ma uno l'hanno fatto e hanno segnato, ora a breve lo vedremo. Fa male perdere così, i giocatori però devono metterci. Cattiveria, dichiara l'allenatore, la situazione è grave, qui ci deve stare soltanto chi ha gli attributi, dichiara Gallo. Le pagelle con Altobelli che perde palle in disimpegno, Palumba aiuta poco il centrocampo, bifulco sottotono rispetto al solito. Allora vediamolo, questo gol che ha deciso la gara del Liberati, rete segnata ad inizio ripresa, dopo che nel primo tempo la Ternana comunque aveva ben giocato. La palla in mezzo messa da Chiricò, punizione alla tre quarti, colpo di testa vincente di negro per la formazione brianzola. Vedete il movimento da parte del difensore in mezzo tra Fazio e Altobelli, beh il colpo di testa che insacca Iannarilli. Questo è il gol partita per quanto riguarda il Monza, Ternana che poi ci ha provato, ma senza costrutto. Possiamo tornare dunque in studio, questo per quanto riguarda dunque la Ternana. Prima vedremo invece il servizio del Gubbio che ha impattato a Rimini, ma parliamo di calcio a 5 femminile, Ferelle, Vittoria, Batticuore. La Florenza si deve arrendere, prima doppio vantaggio, poi ribaltone delle Toscane, finale rocambolesco. La squadra di Dorto approfitta dell'espulsione di Penalver e in un minuto decide la sfida. Questo per quanto riguarda dunque tutto un po' l'universo Ternano. Continuiamo a parlare di Serecci appunto con il Gubbio interrotto, Malaccari illude, poi il pari beffa. Il successo tutto davvero in pochissimi secondi nel finale. Al neri e Rossoblu vanno vicino al colpaccio in trasferta da segnalare anche un palo colpito dai Romagnoli sullo 0-0. Buonaventura punisce subito dopo il vantaggio Rossoblu. Il club di Notari reclama un penalty nei primi 45 minuti su Malaccari. Le parole nel post-gara di Bister Galderisi. Nanu, stavolta arrabbiato, il rigore per noi era netto, dichiara il tecnico del Gubbio. E aggiunge, se poi pensa a quelli che ci hanno dato contro, puntini puntini, sull'1-1. E' mancato un po' di concentrazione, dichiara, mentre Malaccari non si capacita e dice ancora come si fa a non fischiare quel fallo. Intanto anche Notari rincara, ce n'era uno anche nella ripresa per un fallo di mani su un cross di De Silvestro, quella la situazione che dichiara Notari. Intanto è distanza inalterata, il divario resta lo stesso, più 4 la zona play-out, meno 4 dalla zona play-off. Lunedì prossimo il derby sulla Ternana che peraltro ha pari punti proprio con il Gubbio. Le pagelle, Casiraghi offre assist di classe, De Silvestro, peccato il gol fallito, chi nel lato non tira mai in porta. Questo per quanto riguarda dunque il Gubbio. E allora vediamo il servizio di Rimini-Gubbio. Partita giocata ieri al Neri, ricordo stasera il punto su fuorigioco, ore 21 TRG. Vediamo il servizio. Al Neri sconto salvezza tra Rimini-Gubbio per la giornata numero 29 del girone BDC. Martini conferma il 3-5-2 con Arlotti e Piccioni in attacco. 4-2-3-1 per Galderisi che ripropone Tofanari in difesa e Malaccare a centrocampo. Passano neppure 90 secondi e Palma calcia dal limite, Marchegiani alza sopra la trasversale. Al sedicesimo Casiraghi riceva centrocampo e scala le marce sulla destra arrivandosi in area. Assistenza arretrata per De Silvestro che arriva con tempi perfetti a rimorchio. Ma il suo mancino da posizione favorevole non inquadra lo specchio della porta. Al diciassettesimo Maini sfila palla Arlotti e calcia dalla distanza, sfera alta sopra la traversa. 41esimo minuto. Ottima trama che parte da Malaccari, transita per Davì, viene rifinita da Chinellato ancora per l'inserimento di Malaccari che penetra in area e cade a terra dinanzi al portiere Giacomo Nava dopo un contatto con Guiepre. Proteste vibranti del numero 7 del Gubbio che viene anche ammonito nella circostanza ma per l'arbitro Maria Marotta di Sabri è tutto regolare, anche se sembra esserci, il tocco del laterale Burkinabè sul tallone di Malaccari. Si passa alla ripresa e Martini cambia il centravanti inserendo Buonaventura per Piccioni e al 55esimo proprio il neo entrato brucia sul tempo e specie, decentrandosi a sinistra. Poi doppio dribbling ancora full Argentine su Malaccari e conclusione dei viati in corner da Tofanari. Al 61esimo Arlotti prende palla sulla tre quarti, si sposta sulla destra, cross in mezzo proprio per Buonaventura, colpo di testa che lascia di stucco Marchegiani ma il pallone colpisce solo il palo esterno terminando poi a lato. Al 78esimo Tavernelli subentrata a Cattaneo, converte da sinistra e serve la corrente Casiraghi, conclusione sul primo palo bloccata da Nava. 82esimo minuto, Fulminea ripartenza rosso-blu, De Silvestro elude un raddoppio servendo di prima Casiraghi, tacco principesco a liberare Malaccari che dinanzi a sé vede il deserto di Gobi in riviera, controllo orientato e con l'esterno che non lascia scampo a Nava per il vantaggio del Gubbio, primo sigillo in campionato per il jolly nativo di Iesi che corre a festeggiare sotto il settore riservato ai supporters rosso-blu. Una gioia che dura però davvero un battito di ciglia perché Rimini riparte dal cerchio di centrocampo buttando palli in avanti, una serie di batti e ribatti dinanzi alla regubina premia l'intraprendenza di Buonaventura che anticipa specie facendo arrivare palla all'entrato Cicarevic che serve nuovamente Buonaventura, brava a sfuggire alla difesa e Gubina e a trafiggere Marchegiani con un destra giro che si insacca all'angolino. 12 i secondi passati da quando il gioco è ripreso e neppure 60 complessivi dopo il gol di Malaccari e Rimini ha già impattato grazie alla seconda realizzazione in campionato del suo numero 9. Nel recupero un ultimo brivido passa sulla schiena di rosso-blu quando Marchegiani esce a vuoto sul croft di Valerio Nava e Cicarevic non riesce ad impattare la sfera a porta pressoché sguarnita. Finisce 1-1 il Gubbio conserva un punto di vantaggio su Romagnoli salendo a 33, a 4 punti dai play-off e altrettanti dai play-out agguantando così la Ternani in classifica e lunedì 11 alle 20.45 al Barbetti è in programma proprio l'attesissimo derby contro i Rossoverdi. Queste dunque le immagini, il servizio di Rimini Gubbio, il punto come detto stasera a ore 21 fu TRG con il salotto sportivo di fuorigioco condotto da Roberto Minelli. Allora noi parliamo ora di Serie D con il blitz del Trestina che espugna il campo del Viareggio che battute sempre più in crisi, Catacchini e Soci ne approfittano al massimo. Stagliano nel finale regala tre punti d'oro ai bianconeri che vedono la salvezza. Il tecnico Cerbella che dichiara una vittoria, proprio quello che ci serviva in questo momento. Non può sorridere invece il Bastia che dura però quasi un'ora, poi la pianese capolista. Cala il Tris 3-0 a Pian Castagnaio. Mentre il Cannara è beffato al 95esimo, il punto però permette a Battista e alle soci di conservare 7 punti di margine sulla zona play-out. La squadra rosso-blu acciuffata con un rigore a pochi istanti dal triplice fischio finale. La Sina Lunghese salva con Vasser, i rosso-blu erano passati avanti con Colarieti. Farsi, il rigore forse è inventato, peccato ma la salvezza è vicina, dichiara il tecnico della formazione cannarese. Eccellenza, lama, pari play-off, ma la vetta è andata. Veneroso, replica Missaglia e il Foligno scappa a più 5. Risultato giusto al Muzzi di Carelli, buon passo, dichiara il tecnico bianconero. Al Migaghelli invece, la prima volta di Mister Butto, l'Angelana schiaccia il Borgo, 1-0 la vittoria dell'Angelana sul Sansepolcro, mentre ha il gubbiotti di Narni. La Narnese rivede la luce con Mister Sabatini, vittoria contro una buona Ducato, passato in vantaggio per prima, poi Quondam vale oro per il gol del 2-1 fu rigore, aveva pareggiato prima Proietti per la formazione di Narni. Il Foligno che cala il poker del più 5, i Falchetti partono bene, poi concedono troppo agli avversari che segnano con cacciamano, ma è soltanto un'illusione. La doppietta di Francioni, il solito Filippo Fondi e il rigore di Peluso significano pievese nei guai e fuga in vetta, si legge ora più 5 dal Lama. Due giorni e poi sarà ancora Coppitali intanto per i Falchetti contro il Tolentino alle 20 per il ritorno degli ottavi della fase nazionale. All'andata vinse il Foligno per 2-1, Armilei lo spirito deve essere quello giusto, mentre il tecnico della pievese Baglioni il rigore dichiara in maniera alquanto ironica. Poi al comunale intanto colpo groffo del Ponte Valleceppi, Spoleto terzo K.O. di fila in casa ed inizia ufficialmente la crisi 3-1, la vittoria del Ponte Valleceppi con Urbanelli, lo vedete in foto, protagonista. L'Ellera intanto trova sulla strada un Cocchini Super, finisce 0-0 tra Castel del Piano ed Ellera al Menicucci con il portiere della formazione locale che pare un rigore al rientrante Polidori. Mentre Ponte Vecchio prima mai dire gol e poi l'assisi su baso la castiga. Lo 0-1 arriva su rinvio che sbatte su Castelletti e va in rete, poi sbaglia pure il rigore De Luca per la Ponte Vecchio e l'assisi su baso fa il blitz. Russo, scherzetto di Carnevale, tripletta e Massa Martana giù. Il puntero partenopeo vale il terzo posto per i perugini, dunque 3-0 del San Sisto con Russo, Mattatore con una tripletta. Passiamo ora alla promozione e il Tiferno se ne va e più 5. I Tifernati di Mister Santececca si godono un totò in Stato di Grazia, parliamo di Pica, altra doppietta, Eramo e lo stesso Pica appunto zittiscono la pietra lunghese e certificano l'allungo al primo posto. Eccellenza un passo, a 7 giornate dalla fine si legge. Poi in basso Sorella regala 3 punti d'oro alla Marra, Montone esteso e agganciato al quarto posto. 1-0 del Marra San Friciano sul Montone, mentre il Branca batte 2-1 il Selci Nardi, fa tutto Capitan Gaggiotti, due reti d'autore per il Capitano, il Branca piega il Selci e supera la Trasimeno. Ora è seconda da sola la formazione Eugubina, proprio a 5 punti, dalla Tiferno capolista, davvero lodevole il percorso sin cui fatto dai ragazzi di Caporali. Trasimeno, così no, solo pari in casa ed è scavalcato. Finisce senza rete il match contro il Caffè del Diavolo. La squadra di Cagliola adesso è terza, a meno 6 dalla vetta. In alto il Corciano accarezza la vittoria con Cellini, poi il Mugnano lo riporta con i piedi per terra. Finisce 2-2, mentre San Marco Juventina batte 2-1 Castiglionese-Macchie. In basso ancora 2-1 sempre del Piccione sul Ventinella, salvezza più vicina per gli uomini di Scattini, mentre il Pianello viene sommerso 5-1 dal Tavernelle in casa. Per quanto riguarda invece il girone B di promozione, Nestor, vittoria a lungo, espulso Baronci, ma padroni di casa conquistano comunque il settimo sì di fila nel testa-coda col Ternieste 2-0. La capolista manda capo il Ternieste e porta a 8 punti. Il vantaggio sul Gualdo. Portiere da record sale a 766, il primato di imbattibilità vantato dal portiere appunto della Nestor, Baldoni. L'MC98 detta legge tra le Muramiche, il Viole ci prova, Cascianelli però non basta, finisce 2-1 per l'MC98, 4-1 invece del Campitello. Sulla Merina, Montefranco ok, ma il Gualdo perde terreno, finisce 0-0, un punto ciascuno, padroni di casa senza Falocco, Dragone il più pericoloso, la Nestor, come hai visto, vola a più 8. I ragazzi di Mister Mauri giocano senza alcun complesso di inferiorità contro un Gualdo Casagastalda, secondo in classifica. La Tairus spreca l'occasione, il Monte Castello la guanta, finisce 2-2, il Petrignano invece travolge 5-1, lo Giulia Spello con doppietta di Anselmi, ex Cannara qui in foto, pari contro il San Venanzo per il debutto di Genovasi, finisce 1-1 tra San Venanzo e Nuovo Gualdo Bastardo, mentre il Giove fa il colpo 3-2 sul campo dello Sporting Pila. Questo dunque anche per quanto riguarda la promozione, passiamo dunque alle altre discipline, tornando a parlare di volley, ma di A2 femminile perché la Bartocini è scatenata, la 1 ora è ad un passo, percorso netto dopo quattro gare nella pool promozione, blitz pesante a Mondovì, un'altra predetendente, perde terreno, bella vittoria per 3-1 da parte della formazione di coach Bovari. Mentre nel prossimo turno, luce accese sul derby Perugio-Orvieto, si gioca domenica al Palabarton alle 17. Proprio Orvieto guadagna solo un punto, Custorino passa al tie-break per 3-2, mentre in volley B e C, Piccini ok con la 3-M, la Sia batte la Sier, due punti anche per Trevi. Si parla anche di Sce, D'Assisi-Ladina, Rebecca Venturini vince in alta Badia, l'Hunter 12 vola alle finali nazionali. Continuiamo a sfogliare per quanto riguarda il volley, a due maschile Monini, reazione da grande, batte Reggio Emilia dopo una gara entusiasmante, torna al quarto posto in classifica, nel momento più delicato del campionato, il team di Tardioli ha tirato fuori le unghie, 3-1 per la formazione Spoletina, solo un passaggio a vuoto nel secondo set, Padura Diaz ha messo 25 palloni a terra, ciclismo, Corradini trionfa Civitanova, primo sì con la forte braccio per quanto riguarda dunque anche il ciclismo, poi basket a due femminile, Umbertide non perdona la bottega del tartufo, Scaldi tifosi, Pompei, Giudice e Cirtcovic, scrivono 14, anche Civitanova, cada Palamorandi e i playoff adesso sono davvero ipotecati, 6-8-5-7 il punteggio finale, parliamo poi di C-Silver, visto che la C-Gold osservava un turno di riposo, Todi e Toritaglia Recanati, mentre l'Orvieto fa bottino a Gualdo, Virtus Assisi mette giù Aesis Iesi e continua a comandare la classifica, nel podismo Lucchetti e Anananu si esaltano alla scalata delle sorgenti di Nocera, nello scherma Astolfi, Di Gregorio e Terenzi d'Oro trionfano al campionato italiano Under 14, per quanto riguarda dunque anche il circolo di Terni di scherma. Questo dunque era lo sport sul Corriere, passiamo ora a ciò che invece ci riserva il Messaggero, partendo dal calcio, sempre con il Perugia in primo piano, Grifo Ok si riprende, il Curi si legge, il Perugia parta razzo alla mezz'ora avanti di due, poi la Salernitana prova a riaprirla, la squadra tiene Sadiksegna, poi però lascia i compagni in dieci, Anne è tornato, entra e dopo cinque minuti timbra subito il cartellino. Con una squadra così, Nesta si sente un po' perugino, si legge anche nel punto, le pagelle, Verrum bene prezioso, falserano a i replicanti, le parole anche di Nesta, abbiamo giocato da gruppo coeso, oltre 8 mila allo stadio, in campo decisiva la compattezza nel finale di partita, questo per quanto riguarda il Perugia, mentre Ternana scende il buio, si legge sul messaggero, appena subisce il gol dal Monza, la squadra si spegne, dimostra di non avere carattere e di non saper reagire, alliberati, ennesima delusione per i tifosi rossoverdi, inutile la serie di cambi dell'allenatore Fabio Gallo, le pagelle, defendi non molla, Mari Lungo ci prova, il punto, la Ternana non è un giocattolo, poi le dichiarazioni da parte di Bandecchi, da questa settimana anche Presidente, altiché proprietario della Ternana, pensavo di perdere 7 a 0, dichiara Bandecchi, finalmente però dice anche, abbiamo visto una partita giocata da noi, e poi occhio al tifoso, una squadra che non sa reagire, si legge, poi si parla di volley, con Sir Okheira, venna colpita e affondata, i Block Davids non sbagliano e chiudono con un netto 3 a 0, così sono 60 punti in classifica, vincono anche gli inseguitrici, Lorenzo Bernardi manda in campo la formazione tipo, partita gestita bene contro un avversario, che da filo dà a torcere, Bartoccini fa il pieno, successo contro Mondovì, per 3 a 1 in a 2 femminile, in a 2 maschile, la Monini ce la fa, batte Reggemilla, li trova la quarta posizione in classifica, sempre a 2 femminile, Zambelli in crisi, secondo K, con Barricalla finisce con la sconfitta al tie-break, poi in Cigold, Val di Ceppo che non giocava, ma riposava il punto, con la rincorsa alla vetta, che serve al Foligno, invece manca soltanto un po' di cattiveria, Perugia Basket a caccia, della salvezza Cigold, che tornerà domenica prossima, mentre in a 2 femminile, le ferelle schiantano il, in serie A femminile, scusate, di calcio a 5, le ferelle schiantano il Florenzia, determinante la tripletta della Tampa, anche una doppietta di Vanessa Pereira, una vittoria importante per la classifica, le Toscale hanno cercato, in vano di resistere, a fianco, si torna a parlare di serie C, messa di fatto tra il calcio a 5 e la serie D, il Gubbio soffre, segne ci crede, ma si fa riprendere sul più bello, finisce 1 a 1 a Rimini, come abbiamo visto nel servizio precedente, poi la serie D, come detto, il Bastia resiste per un'oretta, poi la Pianesa accelera e ne fa 3, il Canaro raggiunto al 95esimo, si accontenta di un punticino, Trestina, ci pensi il baby Stajano, e Cerbella può ritrovare il sorriso, si legge. Poi passiamo all'eccellenza, con il Foligno che va in fuga, con il poker alla Pievese, i falchetti travolgono la Pievese, allungano sul lama, doppietta di Francioni, ingolla anche Fondi, e Peluso su rigore, i Biancazzurri partono fortissimo, dopo 28 minuti sono già sul 2 a 0, Cacciamana accorcia, a fine primo tempo, Armileva sul concreto, bene i punti, ma a un certo punto ci siamo seduti, intanto il Sanzismo non si ferma, l'Assisi infila la decima, negli altri risultati di giornata, Spoleto invece ormai è caduta libera, il comunale passa anche il Ponte Valleceppi, arriva così il terzo capo di fila, per la squadra di Cavalli, botte di posto in 20 minuti, tra Vietane e Lama, finisce 1 a 1, Folito in mezzo Quondam, l'Alanese stende 2 a 1, l'ha Ducato, intanto per non solo sport, Castello, Giaczintini e Mamma Silvana, insieme campioni, per battere il cancro, e chiudiamo allora, la nostra segna stampa, con il QS, quotidiano sportivo, inserto della Nazione, che già in prima pagina, titola Perugia, 10 e Lodi, il Grifo stende la selanitana, e vola nei playoff, Sadik, Eurogol e Rosso, con An in primo piano, mentre Ternana, crisi infinita, liberati, passa il Mondo ed esplode, la contestazione, vediamo allora, all'interno, per quanto riguarda, appunto, il QS, quotidiano sportivo, la pagina delle formazioni Umbre, il Grifo si riprende il Curi, Tris da playoff, si legge, solanitana piegata, nona sinfonia per Verre, che timbra appunto, la nona rete stagionale, i biancorossi tornano a vincere, davanti al proprio pubblico, e salga una quota, 38 punti in classifica, le parole anche di Nesta, che dichiara, è stata una bellissima settimana, dopo Cosenza, eravamo tutti scemi, occorre avere equilibrio, nei giudizi, si legge, questa sicca una vittoria da squadra, di che era sempre il tecnico perugino, una coreografia da brividi, che ha accolto la squadra con la curva Nord, una gigantografia del Grifo, uno striscione con dichiarazione d'amore, le pagelle, anche Verre di un altro pianeta, Falserano, di qualità, si legge, per questa bella vittoria del Perugia, poi la Ternana, ancora KO, la rabbia dei tifosi, i rossoverdi cadono in casa, anche contro il Monza, decide negro, contestazione a fine gara, Gallo, fa male perdere così, oggi il club decide se prolungare o meno il ritiro, intanto le pagelle si salvano in pochi, l'attacco non punge, mentre per quanto riguarda il Gubbio, il vantaggio dura due minuti, il Rimini acciuffa subito il pareggio, succede tutto nelle finali, sblocca Malaccari, Buonaventura firma il definitivo 1-1, come abbiamo visto anche nel servizio in precedenza, Serie D, Stajano gol, il Trestina torna a vincere, di misura il blizzo dei bianconeri di Cerbello, una rete nel secondo tempo, Pinguaia il Viareggio, il Bastin invece resiste un'ora, la Pianese poi cali il Tris, Cannara Paribèffa raggiunta fu rigore al 94esimo sul campo della Sinalunghese, eccellenza, Foligno spietato, poker è a lungo in vetta, si legge 4-1 sulla Pieveze, Falchetti raggiungono quota 51, portandosi a 5 punti di vantaggio sul Lama, come abbiamo visto, L'Angelana esulta su rigore, Fondi punisce il Sansepolcro, il Goyor Vietana fermato in Lama sul 1-1, 2-1 invece della Narnese sul Ducato che viene battuta, lo Spoleto si illude, il Ponte Valleceppi passa 3-1, il rimonta, Sanzisto, Russo D'Aurlo, Vittoria e terzo posto, la Sisi Subaso che firma il blizzo per la salvezza, 2-0 sul campo della Ponte Vecchio, scusate, mentre è 0-0 tra Castel del Piano, Ed Ellera con il portiere del Castel del Piano, Cocchini, Super, a Latiferno invece, basta un tempo, come abbiamo visto, in promozione, la Piotalunguesi si arrende in casa, Tavernelle Super, Campitello da Urlo, passiamo al risultato del basket, Umberti del Super, battuta Civitanova nel big match, Orvieto invece si arrende, troppo forte, la cestistica spezzina, in serie D, Assisi torna al successo, 7-7-6-8 su Perugia, Spoleto sbancaterni, 63-47, bel colpo dello Spoleto, 59-52 su Viterbo, mentre Perugia sorpassa Gubbio, parliamo di Wisp, Palazzetto Perugia, 7-3-7-1, fu la formazione gubina di Spogli, mentre in C-Silver, la Sisi fa centro, battuta a Esi Iesi, 70-61, Umberti da invece beffata, nel finale sempre in C-Silver, 48-49 in casa, contro Tolentino, parliamo allora di Volley, per chiudere davvero, con la Sir travolgente, anche a Ravenna, i Block Davies chiudono in 3-7, si confermano al primo posto, ottima prestazione di tutta la squadra, Leone Implacabile, il servizio dei Block Davies, fa la differenza, Boccone Amaro intanto per la Zambelli, che perde come ha visto alla tie-break, 3-1 invece di Ponte Velcini, in B2 femminile su Roma, in prefe della Battocini Perugia, in A1 femminile, 3-1 a Mondovì, poi Foligno batte 3-0, in trasferta Monteluce, e Monini Spoleto, rientra nel play-off, battendo 3-1 Reggio Emilia, oltre anche a in B1 femminile, la vittoria per 3-0, di San Giustino, nel derby con Perugia, poi per chiudere la domenica di emozioni, anche la palla nuoto, derby alla Libertas, 12-4 sulla Grifus, Rugby Serie A, Barton, Beffa finale, sconfitta 20-15 a Firenze, mentre in C2 maschile, Gubbio strepitoso, batte 45-7 Teramo, il quintetto rosso-bluo, allenato da Roden e Caprini. Questo anche per quanto riguarda dunque, lo sport del QS, siamo davvero in chiusura, ora una piccolissima pausa, solo per vedere la sigla del meteo, e poi andiamo con le previsioni, per la giornata di oggi. Il meteo, per quanto riguarda lunedì 4 marzo, la giornata di lunedì, si aprirà su tutto il territorio regionale, con cieli parzialmente nuvolosi, o poco nuvolosi. Nel corso della giornata, avremo nuvolosità in aumento, nei settori appenninici, ma senza rischio di precipitazioni, e ampi sprazzi soleggiati, nel resto del territorio regionale. Giornata stabile, con temperature ancora miti per il periodo, minime comprese fra i 2 e 4 gradi, massime fra i 13 e i 15 gradi. Questo è il meteo a cura di Rick Meteo Gubbio. Siamo in chiusura per quanto riguarda la nostra rassegna stampa, stasera agli appuntamenti con l'informazione di TRG, mentre alle 21, vi ricordo ancora, torna sulla nostra emittente, canale 11 TRG, il saluto sportivo di fuorigioco, condotto da Roberto Minelli, per fare il punto sul Gubbio, Ternana e campionato di Serie C. È tutto, la rassegna stampa torna domani mattina, sempre alle 7.30. Grazie a tutti e buona settimana.